Gentili telespettatori, buona giornata. Tra Letta e Salvini scintille, su che cosa questa volta? Sull'obbligo per i docenti, gli insegnanti, maestri, professori, professoressi, eccetera, eccetera, l'obbligo del vaccino. Il segretario del PD dice, ma tu scherzi con la salute? E il leader della Liga dice, no, non sto scherzando, l'obbligo è inutile e non da paese, libero. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, qualche mese fa, invitava la politica a non dividersi, a unirsi. Oggi, mentre ancora questa malattia è imperversa, di nuovo cominciano a litigare. L'obbligatorietà o meno per gli insegnanti. Come nei più classici film comici politici italiani, abbiamo due aree politiche che devono per forza dire l'opposto. E' incredibile, come può essere possibile che sempre, destra e sinistra, la pensino su tutto diversamente. Mi sembra così impossibile, mi sembra così assurdo che si possa sempre dire il contrario dell'altro. Questa volta abbiamo da una parte Salvini che non vuole l'obbligo per gli insegnanti, dall'altra parte abbiamo Letta che vuole l'obbligo per il vaccino per gli insegnanti. Secondo Salvini non si può rincorrere le persone per vaccinarle. L'unica differenza rispetto a novembre scorso, quando il capo dello Stato lanciò il suo appello, è che a schierarsi sugli opposti fronti oggi sono due partiti alleati nel governo Draghi. Vabbè, su questo penso che nessuno si scandalizzerà che PD e Lega sono avversari nello stesso governo. Letta dice Nelle scorse settimane, e anche ieri, Salvini parla della gente inseguita per essere vaccinata e difende la libertà di non vaccinarsi. Ma è stata l'ultima occasione in cui ha evocato l'immagine, riferendosi ai ragazzi dei quali altri partiti invocano una immunizzazione più massiccia per garantire la ripresa della scuola in presenza e provocare la reazione di Enrico Letta. Salvini dichiara al segretario del PD Ride e scherza sui vaccini è un comportamento del tutto irresponsabile. Non si scherza sulla salute degli italiani. Le vaccinazioni sono una priorità assoluta. Il governo prenda iniziative le più stringenti possibili. Io sono per l'obbligo vaccinale. Letta è per l'obbligo vaccinale per tutti gli italiani. Abbiamo analizzato in questi giorni se è costituzionale o no. L'obbligo a vaccinarsi è incostituzionale. Certo, nella Costituzione non leggerete il vaccino non può essere inoculato obbligatoriamente. Non c'è scritto così. Ma non si può obbligare una persona a un trattamento sanitario. A meno che non si escluda che questo trattamento sanitario, qualunque esso sia, non abbia nessun danno per la persona. Non ci sia nessuna possibilità che gli arrecchi un danno. Pertanto è impossibile mettere un obbligo vaccinale in Italia. Ma quelli che si definiscono i dem democratici sono per qualcosa di incostituzionale. E quelli che vengono accusati da quelli che si definiscono democratici di essere dei pericolosi, sovversivi, antidemocratici, illiberali, sono quelli che invece sono per la difesa della Costituzione e della libertà. In questi ultimi anni si è detto, non da me, ma da più parti, che i veri antidemocratici sono quelli che continuano a dire che loro sono democratici e gli altri non lo sono. Cioè la vera idea di fondo antidemocratica su tante cose viene proprio dalla sinistra. Credo che questo non sia una novità. Ormai è risaputo che la maggior parte delle idee incostituzionali, antidemocratiche, eccetera, eccetera, vengono dalla sinistra. E la maggior parte delle idee liberali, democratiche, arrivano dalla destra. Incredibile, vero? Quello che vuol farci passare la società con i giornali e i media schierati a sinistra è che sia l'opposto, che a destra ci siano i cattivoni, quelli proprio che con la democrazia non c'entrano niente, e di là ci sono i paladini, i paladini della Costituzione. Non vi ricordate le sardine che andavano in giro con i cartelli qua? Avevano fatto una biciclettata dove ognuno doveva mettersi un cartello con un articolo della Costituzione. Si sono presentati in 20, si sono dovuti mettere 10, 20 cartelli, 15, 14 cartelli a testa perché non arrivavano neanche il numero sufficiente per i cartelli della Costituzione. Va bene. Abbiamo visto cosa dice Letta il democratico mentre Salvini dice A Letta il caldo fa male. Il numero uno della Lega dice A qualcuno abituato a vivere a Parigi il caldo fa brutti scherzi. Non rido è uno scherzo. Obbligare a vaccinarsi studenti di 13 o 14 anni o gli insegnanti non è da paese libero. E' saltata la luce all'improvviso. Quindi mi vedete ancora? No? Sì. Quindi Salvini dice Questo non è da paese libero. Va bene. Io vi ringrazio per avermi ascoltato perché fuori c'è un temporale tremendo ed è saltata la luce. E vabbè. Insomma. Non ho tempo di rifare il video quindi eravamo già arrivati ecco è tornata è tornata la luce e va bene. Grazie a tutti in questo momento di confusione ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti sempre qui sul canale. Grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti.